Salve a tutti cari spettatori di YouTube, nel passato di tempo dall'ultima volta che ci siamo visti qui su YouTube, ma ora sono di nuovo qua. Ebbene sì, CowboyTuber è ritornato per portarvi nuovi video e anche per spiegarvi un po' di cose. Allora, partiamo subito dal fatto che gli ultimi video che sono usciti su entrambi i canali sono passati un po' di tempo, da gli ultimi video che ho pubblicato, l'ultimo è uscito sul canale The Gaming, dove avevo pubblicato un video di Genshin, e niente, dopo quello assenza totale. Ebbene, ho avuto tanti motivi, ma proprio tantissimi, molti erano impegni e alcuni non erano cose tanto belle. Per esempio, ci sono stati momenti difficili, per esempio, poi ho avuto da fare col lavoro, e perciò fra una cosa e l'altra come potevo trovare tempo per dedicarmi ai miei due canali YouTube. Poi sono stato pure male, ho un po' di tempo e quindi un altro motivo della mia assenza su YouTube. Ma ora, nonostante tutte queste cose, ho un sacco di video che dovrebbero uscire in questi giorni, settimane. Ne ho davvero tantissimi, perché nonostante l'assenza, diciamo, ho comunque fatto dei video in vari posti, luoghi e pure video di gaming per il secondo canale. E ora inizieremo col video di oggi. Nel video di oggi noterete che qualcosa è cambiato qui, dove registro i video e bene, questa è la mia nuova stanza. E oggi ve la farò vedere tutta in questo video. Questo progetto è stato fatto grazie a... Mentre che lavoravo, ho lavorato per fare questa stanza, capito? E adesso, finalmente completa, la vedrete in questo video. Ma prima di iniziare, come sempre, vi invito a lasciarmi un like, ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Commentate questo video se volete dire qualcosa. E attivate, ovviamente, la campanella delle notifiche, così non vi perdete le notifiche. Ebbene, ora iniziamo. Preparatevi a vedere il mio nuovo luogo dove farò i video. Allora, come vi sembra? Insomma, questo tempo ho lavorato tantissimo e ho dato una mano qua per fare questa stanza che vedete ora. Questa che abbiamo ristrutturato. Allora, la maggior parte di queste cose le abbiamo prese su Amazon. Tipo, per esempio, i letti, i comodini, la sedia da gamer, questa bacheca e quella di sopra, insieme a questo ventilatore e al gigantesco armadio e il poggia katana, li abbiamo presi tutti su Amazon e quindi si è potuto capire che ho lavorato anche per comprare queste cose. Ma ora ve le mostrerò una per una e direi di iniziare da questa, dalla bacheca dove tengo le mie cose da collezione. Aspettate, ora li apro così vedrete meglio. Come potete vedere questa si apre così, che ha queste due potticine. Mentre questa la potticina si alza e si inserisce all'interno. Allora, questo è una cosa che ho preso durante il farm dell'anno scorso e l'ho messo qui in cima. E questa invece è la mia collezione di animali della Sledge, che li prendo per mettermeli in esposizione. Soprattutto i cavalli, che ne ho tantissimi. E ci sono anche altri animali, come potete vedere. Ma i tanti sono cavalli. E mi sa che ne prenderò altri più avanti, perché questa bacheca è gigante. Poi abbiamo pure questo ventilatore sempre preso su Amazon, che si accende con telecomando tramite distanza. Non c'è bisogno di premere i pulsanti lì. E fa aria fresca, perché qui sopra fa caldo. Poi, per quanto riguarda la spada che avevo del mio cosplay di Tomiokagiyu, ho deciso di metterci un po' già katana. E l'ho preso su Amazon. Poi come potete vedere qua è il lato del mio nome, quindi il lato a destra è mio, mentre questo lato è di mio fratello. Le cose più interessanti che ho sono qua. C'è un altro mio cappello e il mio zaino. Ma qui non c'è niente da vedere, che per lo più ci sono vestiti. Poi, qui abbiamo pure un Funko Pop di Vegito. Mentre invece lì abbiamo due Funko Pop, uno di Kakashi e uno di Inosuke di Moslayer. Ah, e lì c'è un po' già gioielli giapponese, sempre che ho preso su Amazon, quello lì rosso. E poi, ho pure preso la sedia The Gamer, per quanto farò dei video per il secondo canale, ovvero Pistolero Plays. E qui c'è la scrivania, dove tratteremo i prossimi video che usciranno su CowboyTuber. Questa invece ve l'ha consigliato un mio amico, ed è la prima Smart TV che compro, perché non ne ho mai avute, ed era il momento di prenderne una. Ed è una Philips. E poi di sotto c'è uno scaffale che abbiamo preso su Amazon, insieme al decoder dei DVD. E ci sono i giochi della Play, del Nintendo 3DS, i libri. E poi lì, a destra, in basso, c'è la PS4. Mentre invece qui, c'è il mio computer. Insomma, un bel po' di cose in questa stanza. Ora, due ultime cose, prima di concludere i video, sono che questo è l'attrezzo che userò per registrare quando registro i gameplay. Non so se si vede, ma questa qua è una foto del mio cosplay di Tomeo Kaguiyu. Non so che ne pensate. E qui, niente, c'è una foto di me in formato anime, che l'ho creato con l'intelligenza artificiale, me lo sono stampato. E niente, questo è mio fratello. Mentre qui, c'è il diploma dell'abbeghiero, quello mio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Nel prossimo video, ci vedremo in una puntata di esplorazione Sicilia. Se vi ricordate i video quelli là, dove mostro i miei viaggi. E sarà uno dei tanti video che dovranno uscire nei prossimi giorni o settimane. Vi aspetto. Un saluto da CowboyTuber. Ciao a tutti.